Dobbiamo muoverci a mezzogiorno e questo video deve uscire alle 15 E' uscito il nuovo DLC con la base operativa Ce la dobbiamo andare subito a comprare E andare a venerla Corri Steph, corri Andiamo a forza, forza, forza E andiamo in giro per la città Volando, armati di missili E abbiamo pure dei propulsori per accelerare ancora di più Oglia, oglia pura Grazie Rockstar E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono Steph, che è oggi come GTA V Benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA V Non c'è tempo per fare l'intro, muoviamoci, dobbiamo andare a comprare tutto C'era bisogno di interrompere, Steph Sì, a parte gli scherzi, partiamo comprandolo subito Allora, io ho visto che è qui Ho visto che è qua Guarda un pochettino, abbiamo un nuovo simbolo Che sono tutte le basi operativo Ce n'è uno anche al lago di Zancudo, se vedi Che mi ispira parecchio Però secondo me, Ferre, per partire col voto Però, Steph Dobbiamo comprare quella che costa di più Stai tradendo Palito Bay E tu hai tutto a Palito Bay Ferre, ma se quanto ci mettiamo ad arrivare a Palito Bay Beh, quindi la più vicina e la più costosa Sarà sicuramente la più bella Grazie, grazie Allora, stile della base Vediamo un pochettino Che colore la scelgo Blu è bella Blu è molto Quello, quello, quel verdolino Quale? Il verdolino Quello là? Quello è molto bello Questo? Sì, secondo me è molto bello Dici Oppure l'ultimo che hai selezionato L'ultimo è molto elegante Molto generico Vado di questo Poi abbiamo le decorazioni Addirittura A me piace questa Sì, oppure quella Quella è molto bella Mi piace più questa Ok Ok Poi Vabbè Cos'è un cannone orbitale? Cannone orbitale Non so neanche cosa sia, Steph In passato ci si accontentava di possedere un esemplare di ogni arma al mondo Sì, esatto È quello che stavo per dire I tempi sono cambiati Non lo sapevo Grazie, bello Al giorno d'oggi combattere senza un supporto satellitare È come andare in guerra con arco e frecce Investi in un cannone orbitale e paga una quota fissa Ogni volta che vuoi premere il bottone rosso Per far piovere l'inferno su qualunque pezzo di terra o mare Ti faccio nervosire Cosa? Steph Eh? Si sono dimenticati di scrivere una cosa Che Questo è l'aggiornamento per me Per me, era ovvio Ma cosa pensavi? Ogni aggiornamento di GTA è per te Io non mi sono spoilerata nulla Perché ho detto Voglio vedere una volta che esce Quindi io non so quasi niente di questo nuovo aggiornamento Ed è bellissimo Però c'è una cosa da dire Che comunque se devi pagare ogni volta che lo usi Non è che questa cosa mi piace così tanto Dipende da quanto è cattivo, no? Esatto Siamo d'accordo? Dipende quello Lo proveremo e decideremo L'area relax Possiamo addirittura sceglierla Abbiamo la minimalista Quella di lusso E quella premium Noi ci prendiamo il premium E possiamo mettere anche il vetro oscurato E quello sì, molto importante Infine abbiamo l'alloggio Che visto che ci siamo Lo prendiamo Sempre premium Per rimanere a tema E ci costa 5 milioni e 811 mila Tanti soldi Tantino Tantino Però compriamolo E andiamo subito Allora Imposta la meta Andiamo, corri Steph Metti il turbo, vai Ecco, in questa macchina Non è che siamo Eh, lo so Infatti dovresti Avresti dovuto prendere una macchina un po' più Eh, lo so Lo so, lo so Stanno già provando a chiamarmi duemila volte al telefono Io so che mi faranno impazzire Non è che sia proprio la strada più comoda del mondo Per rimanere la nostra base operativa Allora, però Allora, siamo vicini alla D Almeno è vicino Oh, salve Oh, salve Bello Come state? Possiamo entrare? Allora, questo veicolo non può essere lasciato Va bene Allora, entriamo a piedi Mi sta bene Bene Dovresti toglierlo, però mi sembra un po' in mezzo Poi sicuramente all'inizio potrei entrare solo tu Quindi me la godo dal tuo schermo, Steph Ma che succede? Aspetta Vuoi vedere che questa è una scienza che scende? Non ci entrerei mai nella mia vita perché mi farebbe strappura Entra con amici e compagni Oh, bello, vai Perfetto Oh, mamma mia A parte bene Adesso mi vedo pure io È già uno spettacolo Ok Nel garage possono essere costruiti veicoli personali, grossi veicoli armati e l'Avenger L'officina della base operativa consente di modificare nel garage l'Avenger e grossi veicoli armati Perfetto Ok, quindi per modificare tutti i nuovi veicoli dobbiamo andare nell'officina in questo posto Dalla sala di controllo puoi cedere a una sezione di armi, a telecamere, a circuito chiuso, all'armadietta, non ho fatto in tempo, l'alloggio in cui riposare Guarda che bello che è È bello, bello Ok, che abbiamo preso il premium, ma è meraviglioso questo, eh Secondo me anche a livello di decorazione è il più bello che abbiamo mai visto Parla con uno degli addetti alla reception per acquistare uno snack o far consegnare un veivolo Pegasus alla base operativa Ok, cosa classica che abbiamo già visto in altre situazioni Però abbiamo due assistenti invece che in uno Nella base operativa puoi svolgere diverse attività Approfitta del distributore automatico o divertiti nell'area relax Perfetto Ci andremo più che volentieri a vedere che cosa c'è Magari c'è qualche nuovo easter egg o minigioco Usa il canone orbitale per osservare San Andreas con sistema di sovredenza sensibilitare Oppure paga per svolgere un attacco orbitale contro un bersaglio Quindi senza pagare possiamo comunque usarlo per osservare Ok E invece qui ci sono ovviamente le missioni dei nuovi colpi Un pochettino come costa Ok, ok Questo credo che lo faremo in altri video Fede sarà anche molto difficile secondo me come colpo Però guarda hanno diminuito anche l'introduzione E siamo già qui Qua secondo me No vabbè ma la porta si apre in automatico E abbiamo una guardia armata che sta qua a difendere qualsiasi cosa Spettacolo Devi passare nel metal detector mi sembra giusto Ok Che dovrebbe suonare da quanto riguardiamo Dov'è il mio cannone? Vi muovete? Non me ne frega nulla medico di segretario No no Fede 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 Cosa c'è? Vieni Vieni Guarda come ti danno il benvenuto Guarda il bancone Fede Ah Sì me lo dai? Aspetta ci posso entrare da lui? Ho visto una porta qui da qualche pa... Ecco qua sì che ci posso entrare Ma fa? Sì secondo me sì Ci danno... Ciao Stef Me l'hanno dato Te l'hanno dato? E lo vedi che me lo sto prendendo? Il benvenuto Non pensavo di poterlo prendere Giusto per partire leggeri capito? Giusto per avere un'armettina così scarsa 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 Comunque non è quello che ci interessa Allora qui Grazie Grazie Ma puoi prendere tu? Molto gentili Sì sì questa è una delle cose che ne abbiamo comprato Che ci dà tantissime armi Tantissime munizioni Bello Questa è una bella cosa È tutto quello che ci serve Dopodiché abbiamo qui È lo stesso posto Ma mi sono confusa È troppo grande sto posto Sembra l'ufficio dell'FBI Ma le vedi le porte? Che problemi hai? Lasciami in pace Ok ci siamo Navigare su internet Mettere la radio Accendere la tv Mi sembra che ci sono sempre le solite cose E bere un drink Sì non c'è niente di che nell'area relax Non mi sembra che abbiano aggiunto niente di nuovo Però qua ho notato una stanza particolare Che non l'abbiamo ancora visitata Che cos'è? È troppo grande Questa è l'area server E questi sono Salve Sì I tuoi tecnici Stef Stanno preparando una nuova arma Avevo ragione Sì sì Vai Allora Come si usa? Allora fatemi capire un pochettino Non mi sta comparendo un tasto Eccolo L'ho visto Mi sto mettendo Ridicola sta cosa È davvero ridicola Ma ti immagini poter fare una cosa del genere? Allora Ma ti sembra? Sorveglianza Gratuito Puntamento manuale Quindi spara con un canale orbitale Contro un bersaglio agganciato manualmente Costa 500.000 dollari Il puntamento automatico Ok Costa 750.000 Molto costoso E poi molto difficile Perché quello sicuramente manuale Devi puntare tu alla perfezione il bersaglio Quindi altrimenti lo puoi anche mancare Sì ma guarda Molto difficile Vado in giro per la città Vedi che sto vedendo tutto in tempo reale Queste sono le auto che passano Qua tu vedi una fere vagante Prendi Prendi Clicchi un tasto Ti costa comunque mezzo milione Però Boom Se vale la pena Ma lo proviamo su un NPC Cioè lo so che è uno spreco Ma lo proviamo? Eh sì vai Ok Cioè è un po' uno spreco Perché non ci sono giocatori in questo momento Quindi Lo so Sei pronto? Sì Allora Vado? Vai Io lo vorrei vedere dall'esterno Sarebbe strabello Questa macchina Ecco però dovevamo provare La cosa orbitale Era necessario Cosa scegli? È il momento più difficile Abbiamo un nuovo carro armato Che è meraviglioso Me li controllo anche io Io non lo so Io non lo so Io direi di comprare il thruster Qual è? Il secondo Questa cosa è strana? È perché è una cosa strana Quindi voglio vedere Cioè che cos'è Ma è dritto Si mette dall'altra parte Io ancora non l'ho capito Lo so E poi mi piace molto Anche quello a fianco Il TM02 Ok Quello sembra molto È il nuovo carro armato Allora io ti dico Vorrei provare La Deluxe E la Stromberg Perché dal trailer Da quello che ho capito Una può andare sott'acqua A modi sottomarino E l'altra vola Quindi Io queste due auto Le vorrei provare tutta la vita Provolo che facciamo? Però Direi di provare la cosa più strana Perché dobbiamo togliere il dubbio a tutti Che cos'è sto thruster Vediamolo un attimino È un razzo Che cos'è Che cos'è Steph? Io non ho capito Allora Dimmi Allora Allora Ti ricordi quando Prima di iniziare questo video Io ti ho detto una frase? No non me la ricordo Dai Una sola cosa ho detto Fere Non me la ricordo Fere una sola cosa ho detto E ricordamelo Anziché rompere Sicuramente Il jetpack Ci sarà solo in una missione Ho appena comprato il jetpack È quello? Sì Oh vabbè Lo so Oh vabbè Lo so Non ci credo Fammi uscire almeno E fammi vedere Accidenti a te che mi lasci chiusa qui Questo comunque è il trash più bello Che ho mai visto Te lo dico Steph Non si può volare con un jetpack In giro per tutta Los Santos Non si può È tutto molto bello È tutto molto bello Questo oggi noi vogliamo In giro per la città Abbiamo qualche arma? Fatemi capire Sembrerebbe di no Allora praticamente lo si guida come un veicolo normalissimo Certo Veivolo Veivolo Non è troppo veloce Ovviamente Però Che comodità Che comodità Cioè È bellissimo Come continuo a far ridere Come cosa Poi non so Magari modificandolo Puoi anche avere qualche tipo di arma Non lo so Perché bisogna vedere poi la modifica Cosa ti permette di fare Però è strabello Che è così Non fa vedersi Basta Io provo anche a giustificarle Ste cose Ma nella propria stessa Aspetta Fammi mandare una foto a Lion Perché deve vederla in diretta Ferre Non può non vedere Mirati però Perché era più bella L'altro in quanto Eh certo Questo è uno spettacolo Aspetta che le la mandiamo Così impara Guarda un po' Lion lino Abbiamo il super jetpack Bellissimo Ok Ciao Ferre Come va? Bene Steph Aspetta che ne vengono a controllo No Steph è ridicola Sta cos'è E lo so che è ridicola Dove sei andata? In alto Ma non ti vedo più Sei troppo in alto Volevo vedere Ah così Tenendo premuto S Ti posso affettare No aspettila Armature Possiamo dargli un'armatura Alla 60% Perché non sono di livello Troppo alto Motore Lo possiamo rendere Più veloce Con un potenziamento Fino al numero 4 E lo facciamo subito Contromisure Oh Ok Allora Credo che siano Le stesse contromisure Che si sono sbloccate Nell'ultimo DLC Quello con gli aerei Sì Che servono a far annullare Un missile Che ti sta arrivando addosso O di quelli pilotati automaticamente Ok Quindi Può far comodo Per non farsi ammazzare Livrea Adesso ci divertiamo Questa è più bella Questa è più bella Ok Allora quanti ne abbiamo 21 Difficile eh Difficile scegliere Ovviamente non devi stare a guardare Troppo il colore Ma la fantasia Perché poi quello lo cambi Esatto A me piace una roba Del genere Sì è bello Ok Siamo d'accordo Prevenzione Blah 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 Va bene Verniciatura Colore principale Andiamo Eh questo fa molto Iron Man eh Eh sì Vero Sì molto Vediamo però se c'è qualcosa Magari in Metallizzati Uh Eh sì Bello 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 Notepad Guarda così Dai lasciamolo così al momento Voglio vedere se c'è qualche Ok eccoci qua Eccole qui le armi Quello che mi interessava Abbiamo Dei minigun Giusto per farti vedere Quanto sono sopri Li vedi Ok Due minigun qua Altrimenti Dei missili Perché cosa opti Scelta difficile Forse i missili Che dici Dai dai Andiamo di missili Anche secondo me Anche perché costano di più Quindi teoricamente Sono migliori E Oh no Cosa sarebbe Il propulsore Per avere uno sprint Vai vai compra Che cosa aspetti Vai Ma che aspetta Cioè Diventa ancora più Noi andiamo in giro Per la città Volando Armati di missili E abbiamo pure Dei propulsori Per accelerare Ancora di più Volia pura Grazie Rockstar Ragazzi Lasciateci un like E sempre una volta Che avete un nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdermi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao